Quante volte si sente ripetere l'acqua è un bene prezioso da non sprecare, soprattutto se si tratta di acqua potabile. E su questa linea d'onda, tanto per restare in tema, il Comune di Montelabate ha pensato, con l'avvio di un bando rivolto a residenti e attività locali, di ridurre i consumi d'acqua potabile attraverso il recupero delle acque piovane. Con l'avanzo di bilancio del lato Marche Nord, Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale, sono stati spartiti tra i comuni provinciali circa 20 mila euro ciascuno da utilizzare in progetti rivolti al risparmio idrico. Abbiamo deciso di fare un bando assieme al geometra Ballotta e anche assieme alla dottoressa ragioniera Falcuni, appunto un bando affinché alcune famiglie monterabatesi e anche attività possono installare nella propria casa degli impianti di risparmio idrico attraverso la raccolta dell'acqua piovana. Si è deciso che il bando è diviso con tre punteggi. Il punteggio maggiore per il riutilizzo appunto di quest'acqua piovana negli scarichi per il WC, poi un punteggio minore per quanto riguarda l'utilizzo negli orti e alla fine un punteggio ancora minore per quanto riguarda il lavaggio delle pertinenze. Daremo 1000 euro per chi farà un impianto per la raccolta dell'acqua piovana che utilizzerà poi per lo scarico dei WC, 600 euro nel caso invece dell'orto e 500 euro nel caso del lavaggio delle pertinenze esterne. Però quello che puntiamo noi sinceramente è nel provare a far capire alle famiglie che se sfruttano questa iniziativa dove noi pagheremo completamente l'impianto che decidono di installare, soprattutto appunto per l'utilizzo per i WC probabilmente è la cosa migliore, ma anche per l'orto come faccio poi a casa mia va bene anche quello. Nel mio caso lo faccio oramai da dieci anni. Un bando che vedrà coinvolte solo le realtà del territorio. Il comune di Montelabate comunicherà a giorni le imprese locali del settore che saranno impegnate nel fornire preventivi e materiali per la realizzazione di questi impianti. Abbiamo chiesto alle attività che vendono questi kit se ci fornivano un preventivo. Alcune aziende, insomma alcune attività hanno risposto e quindi ben venga, quando sarà il momento, quando uscirà il bando definitivamente che dovrebbe essere a giorni, a questi cittadini faremo vedere anche i preventivi che ci hanno dato le attività locali della nostra zona e quindi si potranno rivolgere a loro per acquistare questi kit. Ogni beneficiario del bando dovrà fotografare il servizio prima dell'installazione, dopo l'intervento e presentare poi le fatture d'acquisto. Un'iniziativa che l'assessore Ferraro, collaboratore di Marta Ruggeri, ha riportato alla stessa consigliera regionale Grillina, che apprezzando le modalità del progetto ha deciso di fare una proposta di legge che nelle prossime settimane verrà discussa in commissione e poi in consiglio regionale.